Il commissariato di polizia di Niscemi, giorni addietro, è stato raggiunto da uno sfratto non reso esecutivo. I proprietari dell'immobile, infatti, non lo hanno messo in esecuzione per un innato senso civico. E' quanto segnalano i segretari del sindacato italiano lavoratori polizia della Cigelle, Pino Lardo e Lino Mastrantonio. La vicenda è subito balzata agli onori della cronaca. Il componente della Commissione Giustizia della Camera, Alessandro Pagano, ha presentato una interrogazione parlamentare sottolineando di essere indignato per quanto sta accadendo. Come può uno Stato pensare di garantire la sicurezza al suo popolo, dice, se non è capace di assicurare nemmeno la sussistenza stessa dei presidi di legalità del territorio. E' nella più totale disattenzione degli organi competenti che la criminalità trova spazi liberi di insedimento, facilitata inoltre da una diminuzione di organico dovuta a continui trasferimenti, pensionamenti senza alcuna sostituzione e prolungati stati di malattia. La precarietà genera insicurezza, l'insicurezza genera malcontento e il malcontento un perenne Stato di sfiducia e senso di impotenza. Non è possibile, continua Pagano, che ai cittadini di un comune non vengano garantiti i diritti minimi di sicurezza e inaudito che si rischi di non poter esporre denuncia per mancanza dell'organo competente. Vorrei ricordare in primis al Premier Renzi che il nostro e uno Stato di diritto è come tale di assicurare la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo assieme alle garanzie dello Stato sociale. Alessandro Pagano pretende che vengano intraprese le dovute iniziative di concerto con l'amministrazione comunale di Niscemi volte a garantire una sistemazione idonea allo svolgimento dell'attività di polizia e controllo del territorio utilizzando immobili comunali attualmente in disuso.